Lino Guanciale è uno degli attori maggiormente notti del piccolo schermo in Italia. Il 3 ottobre è sordito con sopravvissuti nuova fiction di Ray 1, ma nella stessa serata c'era anche Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile. E malgrado il suo talento, De Martino ha ricevuto un cifone da Lino Guanciale. In che senso? Sopravvissuti ha battuto Stasera tutto è possibile con uno shed del 19,41% contro l'8,23%. Insomma la fiction ha stracciato lo show di De Martino e si può dire che Stefano abbia ricevuto un bel cifone ovviamente metaforico da Lino. Grazie. 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 Grazie.